Ti va di farla Greg? Sì. Ma che ti vede un po' strano un po'. No, no, no. Vabbè, volevo dirti una cosa, vabbè, te la dico dopo. O me, facciamo il pezzo allora. Vai. Sì, lo facciamo. Ma è. Ehi, perché sei triste? Dai non far così. Non sono triste. Ehi, perché sei triste? Non sono triste. Dai non far così. Vabbè, cioè che... Lei è andata via. Ma ma cosa vuoi che sia? Sì, però... È pieno di ragazze, in fila già per te. È pieno di ragazze, in fila già per te. Ma che sono triste da casa, sì, ma... Lei è andata via. E vogliono soltanto averti. Sì, però... E basta con sto trazzo, reagisci, ti ha lasciato, reagisci, che sei giovane. Ma l'è stata, l'è stata tua? Ma pianta, smettila. Ma sei un bel ragazzo, sei giovane, ma che problema c'è? Ma c'è solo lei, non vuoi senti storia. Devi reagire. Non ti posso vedere così. Lei è andata via. È andata via, allora non c'è stata più donna al mondo. Finita, ma pianta. Lei è andata via. Con una pistola? Ma me l'hai chiesto, tu hai detto sempre... Ma poi è... Non me ne ho chiesto, non me ne ho chiesto niente. È andata via. È andata via e devi reagire. Ma non so che devo reagire, ma se tu fai... Ma no, devi ascoltare perché... Sì, però... Ma non me ne frega te... Ma scusate, sei te che mi hai detto... Devi smettere. Devi smettere. Non me ne frega te. Sfuterai in terra. Dovrai prendere il fiato prima o poi, no? Ma come? Ci metto due secondi, dite? Dieci secondi e tante... Oh! Ma la pianti? Lei è andata via e mi ha detto di dirti che ti ha lasciato. Non stai parlando di Luisa, ragazza tua? No. Stavo parlando di Marilai, della ragazza tua. Ex ragazza tua. Ragazzona abbiamo sprecato. E dico... Se poteva parlare tranquillamente dopo, no. L'ho incontrata... Stamattina mi ha detto... Ma te lo vedi Lillo? Dico sì, stasera dobbiamo fare una cosa in tv. Ah, gli dici per favore che lo lascio? E dico come lo lascio? Eh, mi sono rotta le scatole perché... No, dico ben utile e mi dici perché lo so, perché rompe le scatole Lillo. Però, dico... Come glielo dico io? Dico diglielo tu. Insomma, a fin dei conti sono due anni che siete fidanzati e è più carino se glielo dici tu. Lei dice ma no, no, io sto cercando di diglielo. È un anno e undici mesi che cerco di diglielo. Ogni sera, quando ci vediamo, faccio Lillo, senti lui... Se hai più fortuna tu, diglielo, che lo lascio, vado via con Ugo, che non mi cercasse... Che scusa? Che ho cambiato anche la scheda al telefono. Con Ugo. Ugo chi? Ugo chi? Qualc'Ugo, Ugo qualunque, non è questo il problema. Adesso è che... Adesso è con Ugo che... E te invece torni alle vecchie usanze di una volta manuali. Però, dico, se potrei dire tranquillamente dopo la canzone, non vedo perché sprecare l'intera canzone... Sì, però, guarda che tu... Dai, non essere triste, dai non far così. Eh, dai, non essere triste, dai non far così. Allora è pieno di ragazze che tendono un tuo sì. Oddio.